Antonio Diaco, finalmente ci siamo, sei rientrato oggi, come stai innanzitutto? No, no, abbastanza bene, per fortuna adesso siamo tornati e è stato un mese molto difficile vedere giocare i miei amici in campo, i miei compagni in campo e dove stare là in tribuna a vederli soffrire, anche vincere, beh, oggi siamo ritornati, dai. Nove gol fino a questo momento, adesso c'è bisogno di recuperare il tempo perso. Sì, sì, speriamo, eravamo partiti bene, poi purtroppo c'è stato l'infortunio, sono cose che succedono durante un'annata e adesso ci siamo ripresi, adesso puntiamo a fare altri gol. La gara di oggi, un primo tempo, un pochino, diciamo, con il freno a mano tirato, poi nella ripresa siete usciti alla distanza. Sì, sì, no, vabbè, il cutro non era, cioè abbiamo visto che era una buona squadra, comunque abbiamo vinto, questo è l'importante, ci sono tre punti in più, ci sono una giornata in meno e quindi puntiamo sempre a arrivare per vedere. Sei punti di distacco, però le giornate adesso sono di meno, però bisogna crederci fino alla fine, penso. Sì, 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 quello è il nostro obiettivo, noi ci chiediamo fino alla fine. In un secondo acchizzo ci sono i play-off, però noi puntiamo sempre al primo posto, poi nel momento in cui non riusciamo ad arrivarci vedremo di salire con i play-off. Allora, mister, non era una gara semplice, nonostante il cutro è penultimo, però avete avuto delle difficoltà, alla fine quello che conta è la vittoria. Tu sei soddisfatto della prestazione? Ormai bisogna vedere i punti, non abbiamo fatto una gran bella partita fluida, lucida come sempre, il primo caldo, la stanchezza, forse abbiamo pure segnato troppo presto e quindi la partita diciamo che eravamo in vantaggio e abbiamo cercato di gestirla. Poi il secondo tempo abbiamo cercato di accelerare, concedendo qualcosa, infatti abbiamo concesso due calci di rigore agli avversari, però tutto sommato dovevamo raccogliere la vittoria e ci siamo riusciti e pensiamo subito al sabato prossimo, che abbiamo un giorno in meno. A proposito di rigori, c'è Vulcano che ne ha parato uno e dunque motivo di grande soddisfazione per il ragazzo e anche per te che lo alleni ovviamente. Ma sicuramente il ragazzo ha induito il palo, ha parato un rigore importante perché là sul 3-2 poi si iniziava a fare complicata la partita, 7-8 minuti dalla fine, quindi ha fatto un ottimo gesto, il rigore si sa, è sempre una lotteria, non si sa mai, non dipende molto dalla bravura del portiere, però il ragazzo era concentrato, magari ha induito il palo, anche se forse il decimo rigore è contro, poche volte è stato spiazzato, riesce sempre a individuare il palo giusto, però oggi la presa ci ha regalato questo sollievo perché poi giocare 6-7 minuti dalla fine con un gol sopra, dovevi iniziare a spingere di nuovo, non potevi fermare qualcuno che rendi fida, non potevi fare minutaggi, era difficile tutto, quindi va bene così.